Sembra solo un cameriere dall'aspetto un po' eccentrico ma non fatevi inganare Quest'artista è l'erede di una delle famiglie eccellenti del circo mondiale Signore e signori dalla Francia, David Burley Franconi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Cucchiai, bicchieri, mattoncini Quando l'unico pensiero è tenere costantemente sott'occhio i piatti che devono continuare a ruotare Grazie a tutti 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 Il figlio del clown Boboz, il nostro giocatore extensato.